Siete pronti? Sarà un duro lavoro oggi. Niente paura neanche dell'acqua. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Cosa succede? Il 31 agosto ci sposiamo e abbiamo la possibilità oggi di arrivare e accendere la fiaccola È la prima fiaccola che fate insieme perché qualcuno di voi l'ha già fatta, giusto? Sì, l'ho fatta io, l'ho trascinato in questa bellissima esperienza Anche se sei di Milano e io risalto un'argo e l'hai fatta tu prima A volte succedono anche queste cose, queste sono le alchimie Quindi oggi è un ricordo che porterete nel cuore, giusto? Sì, assolutamente sì È una luce che scalderà anche il nostro percorso, il nostro cammino che stiamo facendo per arrivare al matrimonio insomma Poi vi sposerete il 31 agosto Sì, qui a Sacco Nago Ok, a quel giorno vedremo una luce più forte della fiaccola Auguri ragazzi Grazie Ciao 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 Andiamo 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 E' un po' un invito molto concreto. 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 E' un invito molto concreto.